Hey, salve a tutti uochi kebari e bentornati su Yoshi's Crafted World Oggi ho deciso di usare Yoshi rosa Yeee, 20 monete tutte quante prese, super sexy Ok, va bene, adesso Continuiamo no? Perfetto, completato Invece voglio, in tutto voglio sbloccare un costume per Yoshi rosa Che io lo dico, secondo me Yoshi rosa è una femmina Forse un maschio, non lo so raga, è strano ma vabbè Facciamo, ok così, inseriamo la moneta E adesso vediamo un po' cosa ci capita Uh, attenzione, mi sa qualcosa di interessante Eh, vedete le stelline Fatto gonfiabile Carretto argentato, ok Lattinello che è, questo è il costume del boss Allora, vediamo un po' Beh, non lo so ragazzi che cosa Oddio, metti questo, assolutamente Bene, adesso usciamo E andiamo avanti Ok, adesso penso di Eh, di prendere i vari Pucci in questi livelli Capito? Quindi andiamo qua E andiamo Yoshi rosa Voi siete Pucci, aiuto Attenzione Attenzione Che piante piragna No, non cadere giù Ah, eccolo, l'ho visto Ok, preso Ok, qua c'è il primo Pucci Aspetta, aspetta Forse c'è Eccolo qua Visto? Qui c'è un altro Il secondo Adesso il terzo invece dov'è? Spero tanto che non sia troppo distante Sapete, sapete Allora, il Pucci È qua da qualche parte Ok Questa parte qua Aspè, aspè, ok L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto È qua, è qua, è qua Il Pucci Ok, mi serve la bomba Eccoti qua Bellezza Vieni E Boom Via tipo timido Prendiamo lui Adesso Vado al traguardo Per concludere Veramente questo livello Ok Finish Ah, ok Non ho preso Il L'altro fiore Quello Del Pucci normale Bello In 3 minuti e 30 Però L'ho completato in 4 minuti Sì Vabbè Adesso andiamo con questo livello Topolini e Magneti E se adesso Trovo i Pucci Cuccioli Forse Non ne ho idea Va bene E appunto qua Prendetela E il Baby Pucci Si trova Qua Eccolo Vedete Preso Questo è il primo Non solo che Riprendo Questo Oh È proprio qua Vedete È lì sopra Lì Spaventiamoli Con Il gatto Confiabile Eccoti Aspetta Ok Ti ho preso E adesso Andiamo avanti E dov'è Sto Pucci Nel Malagurio Eh ma non ti trovo Bello Dove sei Aspetta un attimo Ah eccolo Mamma mia Guarda Cioè che roba Praticamente Dovevate fare Lo schianto a terra Su quella lattina rosa Eh vabbè Dai Ma chi lo sapeva Ma guardate Vabbè Ci ho fatto Dai Ok Entro Tre minuti e trenta Sì Ma almeno Ho capito bene Come fare Questa parte Vero Vediamo un po' Com'è questo livello All'incontrario Se sarà bello Come l'originale O forse no Non ho idea Ah giusto Iniziamo molto male Con questi Ma ci mi aiuto Ok mi sa che è più difficile Questo Questa versione Mi sa che è un po' Più complicatella Sapete Credo ma non mi odea No No Lo prendere lui Che uno di Uno è qua Eccolo Visto Preso Ok Vieni qua Eh cosa fai Eh Vai Ehi tu Vieni qua Adesso cerchiamo L'ultimo Dai dai C'è ancora tempo C'è ancora tempo Forza L'ultimo L'ultimo Gli ultimi L'ultimo L'ultimo Fiore Ridente Però comunque Ah ecco il Gucci Ultimo Ok Comunque Abbiamo fatto Aiuto Ah beh raga Alla fine Non ce l'ho fatta A finire Entro Tre minuti E tre Ma che E c'è Gucci Ma cosa No aspetta Ok Eh si raga Alla fine ce l'ho fatta E ho preso anche Il quarto Fiore di dente E io pensavo Che anche questo Durava Tre minuti e trenta E invece no Potevo completarlo Al massimo Durava Quattro minuti e trenta Tipo vabbè Però almeno ce l'ho fatta Eh Cosa vuoi Roccia con faccia Ok si vede dal treno Quindi mi sa questa Vediamo un po' se ce la faccio A prendere qualcosa Le monete non mi interessano Aia Sei te Eccolo Preso Ok adesso usciamo Dallo scenario E Prendiamo Un nuovo fiore di dente Quindi il settantaquattresimo Molto bene Mamma mia gente A pensa Grazie mille Bro Ovviamente lui ha un'altra richiesta Maledetta Maledetta Vabbè Vacuncino bandiera Miniera delle cascate Vabbè Lasciamo perdere Dai Eh comunque Ho deciso che Per esempio Vedete che qua Manca solamente Il fiore di dente Riferente a quello Del pucigrande Cioè quello di completarlo Entro Entro Tre minuti e trenta Però sinceramente Queste Fiori qua Prefisco di più Completarli off camera Capito Let's go E ciao Yoshi Giusto E cosa dici Stai cercando Delle gemme Ascoltami figliolo Io sono Nonno Bricolo E so tutto ciò Che vale la pena Di sapere E ora Orecchi e occhi Ben aperti Le gemme che cerchi Sono finite qui Qui E proprio qui Ecco A questo punto Che tu sai Tutto ciò Che vale la pena Sapere Ora sta a te L'importante È che tu faccia Sempre del tuo meglio Figliolo Addio Ma cosa Ciao Questa è l'area Giardino Florigami Qui è la strada Sì Mi fuori Che bisogna Scegliere Una dire Benissimo Iniziamo Con il primo livello Di questo Nuovo mondo Cioè Pista Fiorita Ok Andiamo Beh Allora Credo proprio Che Se siete fan Dei fiori Mi sa Che questo È il livello Perfetto Eh Mi sa di sì Ok Ovviamente Sti bell Veramente Però Ho fatto bene A scegliere Yoshi rosa Eh Sapete Ok Allora Vediamo un po' Cosa fare Allora Lì E tu Chi sei Che sei Chi c'è qua Aspetta Ma Era tanta Talpa Ok Qua c'è il primo Fioriridente Molto bene Facciamo già Prendere Molte monete Attenzione A questi Tipi Timidi Qua Che Cercono in tutti i mali Di Diventare eleganti Cioè Si Vestono alla moda Grazie mille Fiore Ok La pianta piragna Lì sotto Smash Oh Bellissimo Questa Della ruota C'è qualcuno Qua Eh Vedi C'è tipo Timido qua Altri cuori Molto bene La pianta piragna Muori A sapore Il potere Della vegetazione Sì Sentite Aia Sapevo io Che bello Eh no No aspetta Eh no Volevo il tipo T Eh qua Raga Come faccio Eh vabbè Ho rischiato Però almeno No No però Ancora Tantissimi Cuori Vedete Non male Ok Aspetta Cosa c'è qua Eh vedi Monete Ok Siamo a 3 su 20 Delle Ok Qua sto Dei tappi Dei tappi Sugar Okay Ecco Vedete Sono delle tante talpe No Come Oh sì Devo mangiarti Che Allora Eccoli Ce ne sono altri Ce ne sono altri Aiuto Sono le tante Eh sì perché loro vivono sottoterra E quando escono fuori E impazziscono Allora Ok Aspetta che qua Vedi Eh beh E tu Dammi quella Molto molto bene Attenzione A questi Ok Allora Secondo me è questo Eccolo qua Se Ne ho lui E anche Te No ma dai Che sfiga Ok 7 su 20 Attenzione perché Le monete Possono tipo scomparire Potrebbero scomparire Allora Ok Te muori Attenzione A queste Odiose Talpe Ok Altri cuori Molto bene Oh guarda Che roba Adesso Facciamo così Ok Uno Ok Mi manca Me ne manca uno Me ne manca soltanto uno Prendilo Ah ok Ce l'ho fatta Molto molto bene Adesso possiamo andare avanti Penso che si Ok Molto bene Ah 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 Cattivi Cattivissimo Fiorellino del Cavolo Dai Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ok Non c'è Ok Perfetto Checkpoint Yeah Qua c'è un cuoricino Mamma mia Quanto è bello Aspetta Lì c'è qualcosa Lì c'è qualcosa L'ho visto Allora Qua c'è questa Pianta Delle uova Però Mi sarebbe Una qua Perché qui C'è una tanta Talpa Maledetta Dammi subito Quello Grazie Mille Qua ci sono Di tipi timidi A caso Vabbè Adesso andiamo avanti Su Ah bene C'è questa roba Qui Da fare Che tu muori Addio te Adesso manca L'ultimo Veloce Finish Vabbè Facile Ok Fatto E questo è questo fiore Un po' strano Tutti mie Tutti mie Maledetti Come usate Fate stan Che non c'entrano niente Però sono troppo fantastici Mamma mia Ok prendi questo Mangiato Beh Baccati questo Aiuto 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 Forse siamo quasi Eccolo L'ho trovato Oddio Dove sta Dove sta Quell'altro Devo tornare per forza indietro No Che sfiga Dov'è chi era Aia Veloce fiore Beh non si attiva proprio Ma guarda te che roba Eh non c'è più niente qua Beh non sai no No però comunque Mi è piaciuto Da parecchio Questo livello Molto molto colorato Bello E sì Fico davvero Eh mancava uno Beh 8 su 20 Fantastico proprio eh Meraviglioso Che bello C'è una nuova Ok 8 su 14 Non manchino Vediamo un po' Chissà cosa uscirà E poi comunque ogni volta I costumi Sono dei riferimenti Al Mondo Capito Allora ecco qua Le bellissime uova Yeee Che bello Oh Benissimo Tanta talpa Va bene Aiola Fiori Viola Panna per Caffè verde What Allora mi sa proprio che Per Yoshi Rosa So già cosa mettere Vero Ecco I fatti È ovvio Ritorno Ok raga Adesso Rientro in questo livello Lo normale E Cerco L'ultimo Fiore di dente Va bene Ok Allora raga Ho trovato questa nuvoletta Benissimo Sono a 11 su 20 Delle monete rosse Infatti Mancano pure quelle Da trovare Mamma mia Che roba Va bene Va bene I contemoni No il mio costume Maledetti Me l'hanno tolto Ma Ma come farò Io devo andare al games week Questo andare al games week Il mio cosplay Che brutta roba Vedete che qua sotto C'è una nuvoletta Bene Perché ho fatto lo scanto a terra Eccolo qui L'ultimo fiore L'ho trovato Mamma mia Ok Adesso uscire di tutti i modi A sopravvivere E finiamo Questo livello Questa parte qua Non mi interessa Roba raga Tutto veloce Guarda Tutto veloce Lo fa tutto in modo veloce Guardate un po' Yoshi rosa Yoshi rosa Raga Mamma mia The best in the world E conclude Aspetta aspetta Cosa c'è Cosa c'è qua Eh va bene Le monete 13 su 20 Aia Ecco qua Altre monete Dai Siamo 16 su 20 Ok Eh no Mi sa che qua Abbiamo concluso Il tutto Perché Non vedo Nessun Altro oggetto Altra moneta Rosso non la vedo Non cadere Non cadere Lì se non cadere Meraviglioso Fiore qua Ecco fatto No ma dai Dove sta l'ultima Dove sta l'ultimo Dov'è che era l'ultimo Ho finito il livello Però mi manca solamente Una moneta rossa Però non so dove sia Vabbè Sentite Almeno ho preso Quei il fiore Per fortuna Direi Adesso proverò A fare il prossimo Livello Vediamo un po' Ah ne è 9 su 14 Ok Sfida Tanta talpa Volontà Ok Cos'è Questa roba Non ne ho idea Sconfiggi Tanta talpa Palate Ok 45 punti Un fiore 62 75 3 Ok Ok Allora aspetta Scanto terra Aiuto Aiuto Cosa fate Eh però Io non ho nessun Uovo Eh scusate Non ho le uova Dove si prendono Hey Where's the egg Dove sono le uova Allora qua c'è Aspetta il fiore Ok l'ho preso Ah va maledizione Un andato Prendi quello Prendi quello E tu Bam Ok ecco la te Eh ma non ho più niente I need eggs Voglio le uova Ho bisogno delle uova Per favore Please Le uova strapazzate Quelle belle Vabbè Eh Attenzione 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 Ok tu vieni Mori te Ah 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 Mangiato Mangiato anche te Mangiato anche te Sono troppo malvagio lo so Addio No no aspetta Aspetta Eh va dai Ok allora eh Mi piace questo livello È molto carino Prendi lui Aspetta Facco regalo No Mamma mia Queste cose qua Si cadono Di brutto Ecco gli altri Ecco gli altri Molto bene Vai Tanta talpa Vieni qua Ah no Non mi servivano quelle Sbucate Ok uno è andato Ok perfetto Dai 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 Mamma mia Mamma mia regà Quello è grande Quello è grande Non ha nessuno No dai Mi servivano Ah che cacchio Aspetta allora eh No Di fiore Di fiore Non ci credo Dai Eh mamma mia Non ci credo Troppo Guarda te Guarda te Cosa vuoi fare Mori Morite Odiosi Esseri Fate Schifo Brutta Tanta talpa Vi meno Male Mia Non so neanche Quanti punti sono Non lo so Aspetta eh Aspetta C'è quello Grosso C'è quello Grosso Guarda quanti Sono grossi Veloci Veloci Ok Un andato Vai col prossimo Veloce Doi Doi Non c'è solamente uno Eh no Andato via God damn it 18 su 20 Siamo già a 61 punti Aspetta Forse se riesco Eh no Non ce l'ho fatto Vediamo 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 Cascini Ah bene Ok C'è dai Eh vedi Ma no Non sembra Non sembra Difficile Questo Delle Tante talpe Sapete No Non sembra Difficile Ah vedi Aspetta Ma cosa vuole Lei Perché Credo Che Sono femmina C'è vero Qualcosa Dall'area Giardino Fiorigami Via Si parte Cartello Fiore Fiorfalla Quello Che era Mi sa che Ok C'è Non solamente Uno Allora Sentite Gente Aspetta Un attimo Cos'è Questo Sono Proprio Esauto Solo Aves Dieci Fiori Ridenti Ecco Prendi Eh ma Che bello Siamo adesso A 79 Meraviglioso Grazie Mi sento Ciao Molto Meglio Va bene Cos'è Questa Oh Aspetta Ecco L'area Deserto Dei Dinosauri Va bene Però Non ho ancora Finito L'altra Parte Dei Fiori Allora Sentite Gente Questo è Tutto Per questo Video Di Non solo Che semmai Si blocco Già Questa Strada Esatto Sono Proprio Esausto Se solo Avesse 15 Fiori Ridenti Tienili Yeah Grazie Mi sento Già Molto Meglio Ok Mi sa Che questa Parte Qua È Indicata Ai dolci Eh Sì Esatto Guardate Che roba Ecco L'area Reame Delle Fiamme Ah No Allora Gente Eh Sì Questo è tutto Per questo Quarto Episodo Di Yoshi's Crafted World Nel prossimo Proverò A completare Veramente Questi Due Livelli Questi Livelli Qua Di Di Questa Parte Qua Dei Fiori E poi Forse Andremo Nel Deserto Dinosauri Eccetera Quindi Sì Ciao Ciao Quilalà